Riuscire a tenere testa tutte le altre emittenti del Lazio, anzi lasciarle indietro anche nel periodo estivo quando la gente va in vacanza è motivo di orgoglio perché vuol dire che Teleuniverso è e resta un punto di riferimento. Lo dimostrano, ancora una volta, i dati Auditel, la società super partes che misura gli ascolti dei cittadini ed anche le loro preferenze. Nello scorso mese di agosto Teleuniverso è stata la prima tv del Lazio, quella più vista esattamente come è accaduto il mese precedente e quelli precedenti ancora. La media parla di 73.844 ascoltatori con le fasce dedicate all'informazione che restano le regine dell'audience. In particolare è il telegiornale delle 13.45 il contenitore maggiormente seguito grazie anche alle scelte del palinsesto di inserire programmi trainanti come le intramontabili Tenello Velas. Ad agosto poi la prima serata si è arricchita di numerosi speciali che hanno abbracciato i gusti più disparati. La nostra emittente ha infatti seguito Caput Lucis, il concorso nazionale riservato alle migliori aziende pirotecniche che si è tenuto a Roma in zona Capannelle ed ancora le emozionanti sfide del gonfalone di Arpino con le gare tra quartieri e contrade che hanno visto poi vincere il ponte, fino ad arrivare alle trasmissioni sportive come la ripresa di bordo campo Serie B nell'ultima settimana di agosto. A settembre poi riprendono nuovi contenitori d'approfondimento e molto altro è previsto per i prossimi mesi. Ancora una volta, grazie.